A causa delle emergenze in Italia ho dovuto ridurre le pubblicazioni sul canale. Mi sto attrezzando per fronteggiare il particolare momento che stiamo vivendo, per offrirvi il solito servizio con video di alta qualità e intrattenimento. Spero di regalarvi un momento di spensieratezza, come sempre. Ciao a tutti da Iote e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo Puzzle Pelago a Drag & Drop Economy. Ringrazio vivamente All Green Games per la Free Key e andiamo a provare subito questo gioco. Allora, ok. Ok, la lingua inglese o tedesco, metteremo inglese. Come al solito andremo a spulciare un attimino i settaggi e la prima cosa da fare è abbassare un attimino il volume della musica. Data, ok, e graphics. Perfetto. Apply. Start game. Humble begins. Ok, tu devi essere il nostro magico aiuto che ci aiuterà a... A fare tante robe. Incominciamo a vedere cosa è tutta questa roba. Vedo tante iconcine e già mi sto perdendo un attimo. Ok, queste case, come vedi, hanno bisogno dei tronchi. Quindi, prendiamo e drag e droppiamo i tronchi alle case. Così. Fine! Ho vinto! Grande! Bellissimo, mi piacciono le cose semplici. Ok, facciamo la stessa cosa. Ok, just right click col destro e... Usi una bomba? Oh. Cioè, ovvero, se li faccio così... Così si distrugge, però. E poi? Choplog. Ok. Ah, aspetta. Usare una bomba per... Ok. Perfetto. Ok. Due volte. Ok, ci siamo. Chop the log. Perfetto. E vorrei farlo. Mmm, non l'ho capito, signori. Non l'ho capito. Dice cliccare due volte e poi fare choplog. Ah, ok, giusto. Ha ragione. Scusate. Bisogna cliccare sulla foresta, non su... Le case. Perfetto. Quindi abbiamo liberato il path, il percorso, scagliando una bomba. Ok, possiamo muovere la camera e girarla con il tasto OK, oppure con WSD. Muovendo... Muovendo... Making stride, you can drag the workshop, eccetera. Ok. Quindi possiamo muovere la camera, oppure col tasto sinistro del mouse. Quindi dobbiamo... Gli daremo un po' di foresta a lui, un po' di foresta a lui e altri legna a loro. Great! Proseguiamo al prossimo livello. Portiamo ai vicini. Stai lavorando duramente, stai facendo tutte le cose bene, ma... Dobbiamo aiutare i vicini di casa. Vediamo un po'. Allora... Se io faccio così... Questo gli sta bene. Così. Ok. Praticamente mettendolo al centro, lui serve tutte le case adiacenti. Perfetto. Around the corner. Make path, go round, around the corner. Ok. Ok. Praticamente noi potremmo fare così, e poi da qui così. E così. Attenzione. Questo è cambiato, però. Ah... Perché ho preso da qua. Ok, ok, ok. No, 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 no. Perché questo fa il plank. Ok, perfetto. Allora, questo... No, già sta diventando un po' un casino. Ah, ok. Uno e due. Perfetto. Stai incominciando a diventare un attimino più puzzle game. Ok. Lui vuole sempre il log. Non dobbiamo fare gli incroci. Perché non gli piacciono. Prima dobbiamo demolire questa e cercare di non fare mai incroci. Quindi uno... E due. Quindi gli incroci non gli piacciono. Ok, proseguiamo. Allora, vediamo un attimo. Ok, questo necessita delle tavole. Perfetto. Già l'abbiamo scoperto prima, praticamente, da... Dai log. Mi viene sempre in inglese perché lo leggo. Quindi dai tronchi possiamo ricavare le tavole di legno. Per farlo dobbiamo fare così. Allora, però quello necessita di... Ok. Questo lo spostiamo qua e poi da qui, da dove fabbrichiamo i tronchi, ci spostiamo e creiamo le tavole. Allora, vediamo... Ecco, qua già diventa un po' più difficile. Ma neanche più di tanto perché da qua gli mettiamo solamente i tronchi. Questo li portiamo i tronchi qui e dividiamo... Anzi, li portiamo qui e dividiamo tavole e tavole. Quindi. Uno. Due. Tavola. Tavola. Benissimo. Allora, vediamo un attimo. Ok. Ci c'è. Hai imparato tantissimo. Ci rivediamo quando ci sarà qualcosa di nuovo. Perfetto. Allora. Lui necessita sempre di quello. Quindi questo dovrà andare così. Esatto. Questo così. Da qui ci spostiamo e da qui spostiamo. Uno di dieci. Perfetto. Allora, i path sono... Uno. Due da non creare gli incroci e tre. Mi sta piacendo. Mi sta piacendo. È abbastanza carino. Veloce. Tranquillo. Semplice. Here we go. Abbiamo finito l'introduzione. Passiamo al woodworking. Lavorazione del legno. The tiny pond. Ok. Allora. Dobbiamo solamente estrarre il legno. Allora. Vediamo un attimo. Il problema è che se io faccio così, lui poi si può diramare. No, perché è bloccato. Qua incomincia a esserci un po' di problemi. Uno dei due deve andare via? Non si può. Ok. Mi si è interrotta la registrazione. Continuiamo. Ah. Wall of the go. Ok. Perfetto. Un sacco. Un mucchio di cose da fare. Allora. Vediamo un attimo. Questa qui non posso prenderla io. No. Quindi da qui dobbiamo dire uno. Uno. Vabbè potremmo fare così. Due. Questo dovrebbe servire tutte e due. Poi. Questo dovrebbe servire tutte e due. Questo lo serve. Questo lo serve. No. Questo non serve tutte e due. Eh, lo so. No. Si connette a questo e basta. Si. Sta diventando... Ok. Potricchi. Allora. Vediamo un attimo. Questi qua non sono inutilizzabili. Quindi. Questo va bene qua. Questo dovrebbe servire sia questo che questo. Questo camminiamo e serve questo. Questo gli facciamo servire questo. Questo camminiamo lo mettiamo qua e serve sia questo che questo. Questo serve lui. Poi camminiamo e serviamo questo. Sì. Sì. Ok. Miglioriamo la casa. Case migliorati. Allora. Vediamo un attimo. Questo glielo portiamo a questo. Da qui ci diramiamo. Portiamo un log. Poi facciamo così. No. Facciamo così. Portiamo tavole e tavole. Grande. Vogliono solamente plank. Quindi. Plank. No. Ok. Fermi tutti. No. C'eravamo. C'eravamo. Sì. Perché non me lo collega? Perché si può uscire solo con uno? Quindi dobbiamo fare così. Uno qua. No. Uno qua. E non va più bene. Perché questa rimane isolata. Allora facciamo così. Uno qua. Questo esce da qua e va qui. E da qui. Non gli piace. No. No. Due. E mi manca... Possiamo uscire da qua. No. Non possiamo più uscire da qua. Aia. Allora. Facciamo così. Questo serve questo. Questo serve questo. Era la cosa più semplice da fare. Era questa. E non mi era venuto in mente. Bene. Ok. Allora. Vediamo un attimo. Questo vuole un log. Glielo portiamo. Questo vuole un altro log. E glielo portiamo. Questo. Però questi poi non si possono più portare. Eh no. Allora. Lui cosa vuole? Legno, legno. Quindi. Questo va così. Questo serve entrambi. Questo serve entrambi. Questo lo portiamo qui. Lo dividiamo e serve entrambi. Grande. Prossimo livello. Massima capacità. Ok. Plank, plank, plank. Quindi praticamente... Possiamo portarlo qui. Ok. Ok. Non così però. Praticamente mi servono tre lati liberi. Uno va qua. Un altro va qua. E l'altro va qua. Massima capacità. Easy peasy. Ok. Tanto quanto è stretto. Vediamo un attimo. Per forza. Qua. Poi. Questo lo portiamo qua. Questo lo fermiamo qua. Ci diramiamo. Partiamo, giriamo. Andiamo di qua. Bello. Mi è piaciuto questo. Chopping. Tagliare la legna. Ok. Allora. Tavole, tavole, tavole. Eh no. Sì. Si può anche fare. Ce lo togliamo di mezzo. Questo. Così. Questo è così. Questo lo portiamo di qua. E poi. Portiamo. Uno. Due. Ce ne manca uno però. Esatto. Ok. Dobbiamo cercare di capire come farlo. No. Non è così. Allora. Questo qui. Quello lì. Perché lui vuole il chopping. Giusto? Sì. No. Quindi questo qui. Ok. Questo cos'è? Boh. Questo qui. Uno. Uno. Due. Me ne manca sempre uno. Questo qui. E questo qua. Qua. Fatto. Grande. Sì. Un po'. Un po'. Un po'. Stricchi. Però ce l'abbiamo fatta. Ah. Ok. Lo zoom. Non l'avevo notato. Con la rotellina del mouse. Col più e il meno del looppad. Si zooma. Ok. Andiamo un po' a vedere. Pocco giù. Da quanti ne vogliono qua. Allora. Sicuramente questo è così. E questo sarà così. Per forza. Se lo portiamo qua. Non possiamo più. Andare avanti. E questo ce lo siamo liberati. Poi. Sempre due uscite. Quindi una sarà questa. Però farei così. Un'uscita. E un'uscita. Questo. Un'uscita. E un'uscita. Ci manca questo. E dovrebbe essere. Uno. Dannazione. Due. Ci manca questo. Ci manca questo. Ci manca questo. Eh sì sì. Ci manca quello. Allora. Lo so. Allora. Uno. Due. E ce l'abbiamo fatta. Questo lo mettiamo qua. Che serve. Uno. Due. E tre. Questo deve servirne due. Serve. Uno. E due. Uno. Due. E mi manca sempre questo. Ah. Così. Giusto. C'ha tre uscite così. Grande. Non l'avevo notato. Well done. E ci sarà il prossimo. Che il prossimo. Iniziano. Iniziamo ad avere il ferro. Bene. Direi che per oggi è tutto. Grazie di essere stati qui con me. Spero che abbiate passato. Un po' di tempo. In serenità. E vi siete divertiti con questo. Giochino. Vi ricordo che trovate in descrizione. Il link. Del. Di Steam. Per. Acquistare e scaricare il gioco. E divertirvi anche voi. Con questo giochino. Come sempre. State attenti. Siete medici. Alla prossima. Bye bye.